Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video su come usare videopad editor video posso solamente dire che posso fare una guida come questa perché io uso videopad editor video da ormai tantissimi anni poi da videopad sono passato a programmi più professionali come Adobe Premiere Pro ovviamente per quelli che vogliono imparare a usare un programma semplicissimo come videopad editor video se volete editare foto video o esportare così un bellissimo filmato oppure un video da pubblicare su YouTube può anche fare dei video fantastici quindi in questo caso ti spiego prima le basi su come usare videopad e poi passeremo direttamente ad altri effetti da applicare sui nostri video quindi in questo caso cominciamo prima ad aprire il nostro programma videopad editor video e prendiamo così un video qualunque che abbiamo registrato oppure che abbiamo registrato con la nostra videocamera oppure con il telefono e lo stai portando così su PC ovviamente se colleghi così il tuo telefono al tuo PC vai nella tua cartella prendi così il video e lo trascini qua sopra io ovviamente vado a prendere così un video che ho fatto di un gioco quindi vado a prendere Elden Ring eccolo qua prendo un video che pesa 2,75 giga lo metto qua sopra aspetto così l'elaborazione quindi devi aspettare l'elaborazione se no comincerai a laggare mentre stai editando il video quindi qua dipende anche tutto dal processore scheda video quindi se hai un buon processore scheda video o anche tanta ram non hai problemi di prestazioni però quando andrai ad esportare così il video la CPU poi vabbè salirà sui 98-100% quindi userà tutto il processore e il disco andiamo così a mettere il nostro video qua sopra cominciamo prima a editarlo quindi iniziamo prima dalle basi come una transizione per esempio se volete mettere così una dissolvenza in entrata tipo una schermata nero oppure un colore per esempio se io adesso applico la dissolvenza in entrata esce così un po' di nero e poi esce il video ovviamente non dà nessun effetto visivo solamente una schermata nera come puoi vedere trascinando così il cursore piano piano si vede che si sta schiarendo un po' e poi esce così il gioco ecco la scena quindi se invece vuoi direttamente applicare un altro colore per esempio prendiamo aggiungi clip vuota facciamo il colore che ne so prendiamo un rosso sostituisci campione aggiungi vuoto un bel rosso un bel rosso forte lo mettiamo qua inizia prima con un nero e poi qua c'è una transizione per mettere transizione tra due clip dà un buon effetto per esempio qua puoi scegliere qualsiasi transizione che vuoi applicare sul tuo video pad quindi sulla tua scena nella timeline fai rimbalzare fai scivolare rivela rivela da destra sinistra basso quadrati scacchiera avventaglio linee orizzontali io preferisco di più questo qua fai rimbalzare qui puoi scegliere il numero di rimbalzi va bene così puoi farlo stare così e fai ok nessun freeze frame all'inizio eccolo qua guardate un bel ribalzo quindi in questo caso se su questa clip rossa volete aggiungere un titolo andiamo a mettere aggiungi testo come puoi vedere il testo lo puoi modificare aggiungere qualsiasi font che avete installato sul vostro pc qui mettete un contorno basta che mettete la spunta qua contorno scegliete così pure il colore ombre come puoi vedere non c'è più l'ombra comunque l'ombra dà veramente un bellissimo effetto visivo sul testo sfondo editor che è bianco questo qua testo del titolo tu basta che fai così evidenzi così il testo del titolo visto che è bianco dobbiamo per forza fare così e possiamo scrivere direttamente salve a tutti evidenzi così il testo e aumenti così il numero del carattere eccolo qua e se togli questo clicchi direttamente sul testo ti uscirà automaticamente salve a tutti lo puoi spostare direttamente qui eccolo qua sul testo faccio così eccolo qua grande lo metti qua così quando esce la schermata nera esce il testo salve a tutti è un rimbalzo ovviamente dà un po' fastidio questo lo mettiamo qua e si toglie così anche salve a tutti assieme il colore rosso ovviamente abbiamo fatto già l'inizio se in questo caso non ti piace questa cosa così puoi sempre mettere una tua intro adesso vado a prendere una intro la mia intro del canale di solito non la uso quasi mai quindi in questo caso fai direttamente così e puoi cancellare quello che hai evidenziato lo cancelli oppure ci clicchi sopra fai direttamente del o canci oppure tasto destro sopra fai elimina oppure fai direttamente ctrl z ctrl z ti riporta tutto da capo diciamo fai un passo indietro con ctrl z faccio ctrl z come puoi vedere ctrl z sto tornando indietro nel tempo ctrl z ok se per caso elimini delle clip che hai eliminato per sbaglio c'è sempre il tasto ctrl 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 la metti qua e la intro tua la metti qua e fai così mentre la intro faccio così una dissolvenza in entrata parte così la mia intro che si sente troppo alto ok speriamo funzioni ok fatte la intro l'audio e poi la transizione come ho detto la transizione tu puoi mettere qualsiasi dissolvenza di colore oppure una sfocatura che è veramente bello visto? un bel effetto visivo con la sfocatura ora passiamo direttamente alla parte dove devi tagliare quindi dividere una clip in tante parti quindi è facilissimo la parte qua che non mi serve salto e salto ecco qua questo mi piace poi direttamente L L di lumaca schiacci L tasto destro sopra elimina ecco qua di nuovo una bella sfocatura nessun frizz ed ecco l'effetto che voglio io eccolo qua ovviamente se questo video dura lunghissimo e nessuno vuole vederlo possiamo anche velocizzarlo schiaccio di nuovo L questa parte qua devo arrivare fino a questo punto qua e faccio L ovviamente la scena è un po' lenta faccio direttamente tasto destro sopra e faccio direttamente verticlip aggiungi effetti della sezione cambia velocità della clip eccola qua mantenere invariato il tono audio mantiene normalmente velocità 100% e noi possiamo durata 28 secondi quindi in questo caso da 28 secondi voglio mettere la metà quindi faccio 14 secondi e andrà più veloce capito come puoi vedere c'è la linea verde che sta elaborando così il video ed è più veloce ora con il slow motion così con il slow motion a rallentare ovviamente io sto saltando da questa scogliera salto voglio dare un bellissimo effetto che io salto allo slow motion così faccio direttamente L prendo questa clip la metto un po' più qua con la rotella con la rotella faccio questo effetto così nella timeline quindi con la rotella del mouse fai così questo effetto oppure fai direttamente qui zoom lo zoom nella timeline lavoro su questa clip voglio fare lo slow motion cambia velocità della clip un secondo che diventa direttamente 3 secondi e ci attacco di nuovo questa la collego di nuovo e faccio play bello slow motion e mi butto giù ok quindi in questo caso abbiamo messo le dissolvente abbiamo diviso le clip abbiamo velocizzato la clip abbiamo parlato della clip e tutto ora parliamo direttamente dell'effetto per raggiungere così un effetto visivo su video pad quindi su una scena fai su fx qua sopra quindi su una clip e qui puoi mettere qualsiasi effetto che tu vuoi la scala che ridimensiona così il video lo zoom come puoi vedere c'è anche l'anteprima che ti fa vedere cosa fa questo effetto ritaglio regolazione colore agita così tipo per esempio stai registrando e puoi fare un effetto del terremoto quindi sta tremando tutto trema lo schermo trema la schermata quindi trema la clip il tuo video e la parte anche quella che mi piace di più è lo schermo verde quindi il green screen la chroma che come rimuovere direttamente lo schermo verde in una scena quindi ora per esempio vado a prendere un green screen ovviamente devo prendere un un effetto ok avevo un video da parte per lo green screen green eccoli qua allora abbiamo prendiamo questo qua horror oppure gli occhi ok se adesso io voglio lavorare a un effetto dello schermo verde prendo questa clip la metto qui faccio direttamente su FX qua e faccio schermo verde per rimuovere lo schermo verde in dissolvenza da uno mette finché non si toglie il verde tolto tutto soglia smussatura ovviamente video pad questo è l'effetto che può fare colore più luminosità colore smussatura dissolvenza la soglia questo può fare video pad ovviamente con altri programmi editing l'effetto verde cioè con l'effetto green screen fa miracoli soprattutto Adobe Premiere Pro con la pioggia quindi con lo schermo verde della pioggia con Adobe Premiere Pro basta che ci fai un clic sopra e ti toglie tutto lo schermo verde attorno a ogni goccia che è veramente professionale ovviamente video pad di tol video questo riesce a fare non fa dei miracoli sullo schermo verde quindi solo questo può fare ora passando direttamente ritornando sugli effetti quindi FX più c'è indipina giù ci sono tutti gli effetti filtro popolari bianco e nero negativo acqua luce orchidea notturno ambra vintage elettrico tinta film vecchio far west sogno cartoni bordo cartoni che non ho mai provato eccolo qua a cartone animato è una bella cosa a cartone animato dettaglio dettaglio un po' di più bellissimo così è più bello ogni singolo dettaglio se io metto fino a 8 non asce niente metto 0 è più bello metto bordi patetico con il board colori colori si vede tutto ora è un vero cartone animato come puoi vedere dà veramente un bellissimo effetto di animazione se vuoi mettere la luminosità sempre su FX puoi aggiungere più effetti visivi sulla tua clip quindi non serve fare più clip o fare più effetti poi direttamente regolazione colore come puoi vedere regolazione luminosità luminosità contrasto e basta questo è fiamma colori dettaglio questo è più esposizione per la luminosità trasparenza se per esempio vuoi mettere in una tua scritta il tuo nome il tuo logo clicchi su per fare la trasparenza ovviamente se adesso vado a prendere così il mio logo logo Tony e fermo così questo video con il mio logo che lo metto qua eccolo qui FX scendo fino giù fino a trovare trasparenza ed eccolo qua opacità opacità ovviamente cerchi di muovere sempre con il cursore perché se non ti fa lavorare sul tuo logo qua lo applichi qui il tuo logo fai su FX sul tuo logo più e fai direttamente scala eccolo qua scala puoi ridimensionare così il tuo logo clicchi sopra e lo sposti anche un po' lagga perché sta elaborando così il video più la registrazione che sto facendo con OPS è un casino faccio più ritaglio schermo movimento con il movimento eccolo qua la intro sfocatura l'effetto tonico che sta là sopra in alto a destra ed eccolo qua invece per le dissolvenze finali tipo quando vuoi chiudere un video poi puoi fare direttamente clicchi sopra qua dissolvenza e qui con le dissolvenze puoi fare qualsiasi cosa sfocatura sfocatura in nero sfocatura ecco le sfocature e se ne vanno puoi anche prolungare così le sfocature come puoi vedere la durata delle transizioni questa così facendo quando andrai a pubblicare un video su youtube puoi mettere i tuoi video che vedono alla fine come un outro che è un outro e la metti qua metti i tuoi video qua vuoi iscriviti al canale oppure gli effetti video e cose così ora che abbiamo lavorato abbiamo lavorato così sul nostro video passiamo direttamente all'audio quindi con l'audio non ci dimentichiamo che l'audio è importante nei nostri video quindi in questo caso io adesso prendo così una clip vado su fx ed eccole qua quello che uso spesso io è il riverbero amplifica riduzione del rumore scusate coro eco distorsione disolvenza ovviamente dissolvi l'entrata e dissolvi l'uscita queste sono le più importanti per esempio quando in un video cantano una canzone inizia prima con una dissolvenza in entrata quindi comincia a sentirsi basso piano e poi all'improvviso piano piano accompagnato così con il suono della dissolvenza in entrata da piano comincia ad aumentare così il volume fino a far sentire una meraviglia poi quando devono finire di cantare mettono la dissolvenza in uscita e l'audio comincia ad abbassarsi da solo fino a finire quindi per farti un piccolo esempio clicchiamo tasto destro sopra sull'audio dissolvi in entrata ed eccolo qua ovviamente cerca di mirare con il tuo cursore quindi togliamo un attimo questo la dissolvenza in entrata quindi questa è la parte qua qui voglio che si alzi così il volume quindi tasto destro sopra dissolvi in entrata ok eccolo qua quindi provate ad ascoltare quindi qua non si sente niente poi comincia ad alzarsi e poi riprende tutto e stessa cosa anche con il finale finale invece dissolvenza ho sbagliato ok dissolvenza in uscita e fai ok sempre sul puntatore e guardate un po' dove è ammirato qua sul puntatore e qua e scende e se ne va non si sente più niente passando ora con l'amplificazione più e fai amplifica eccole qua puoi anche amplificare il doppio il triplo il quadruplo amplifica amplifica e non si sente niente puoi amplificare così l'audio la canzone o qualsiasi cosa ti sente troppo alto veramente troppo alto che ti stona se non ti piace fx x e x qua e chiudi più compressore leco distorsione riverbero io metto spesso 3000 diffusione metto 60 e basta e faccio e mi ha dato l'effetto del riverbero fx se non ti piace x più rimozione del rumore i rumori di sottofondo quindi se c'è qualcuno là fuori che sta urlando o sta suonando così il clacson della macchina e tu stai parlando c'è la rimozione del rumore ovviamente devi controllare sempre la rimozione quindi l'audio per esempio questa parte qua livello gate meno 20 meno 25 se si sente ancora quello del clacson devi metterlo su 25 oppure sui 15 poi c'è più poi c'è la parte del pan questa parte del pan è come dire l'audio che si sente solamente sulla cuffia destra e sulla cuffia sinistra quindi se lo metti di qua lo senti tutto a destra se lo metti di qua lo senti tutto a sinistra se lo metti a zero senti da tutte e due le parti equalizzatore coro risolvenza incrociata modifica della velocità e basta e questo era l'audio se vuoi dividere un video dall'audio quindi non ti serve sia il video e l'audio tutti insieme fai L prendiamo questa scena qua L passo destra sopra silenzia l'audio collegato sincronizza audio sostituisci i file oppure scollegare dall'audio e lo cancello ci metto una canzone qua sotto per aggiungere una musica non è difficile andiamo se le niquad sono musica e ci prendo così una musica non copyright ma ce la metto qua aspettiamo così il processo ed eccola qua le canzoni si mettono qua sopra come puoi vedere trascine e lascia qui clip audio per mixare eccole qua e qui parte la musica e togli la musica qua fai L cancello qui parte la musica e qua se ne va la musica come ho detto la dissolvenza in uscita risolvenza in uscita finisce la canzone e si riprende così il filmato con il suo audio sotto ora passando direttamente alla parte della narrazione qui puoi registrare la tua voce narra registra narrazione eccola qua scegli così il tuo microfono microfono e basta e poi schiacci sul pallino rosso salve come va tutto bene come va stop di qua ed eccola qua che è uscita la narrazione salve come va tutto bene come va è ottimo per fare un tutorial e se non hai registrato così la tua voce nel tutorial puoi sempre farlo su videopad editor video poi in questo caso c'è l'aggiungi testo sovrapponi testo semplice oppure effetti testo qui è facile per la parte del testo come vi ho spiegato prima aggiungi testo oppure effetti testo stessa cosa un titolo alla star wars che da giù va in su eccola qua testo del titolo ci richiamo sopra testo del titolo facciamo più grande farm rune ecco qua eccolo qua farm rune e se ne va guarda come se ne va e se ne è andato puoi anche ingrandirlo se non ti va bene che è piccolo farm rune eccolo qua cerchiamo un'altra volta sopra durata animazione 5 secondi durata clip 5 secondi e qua puoi modificare la durata dell'effetto puoi mettere altri effetti di testo numero orologio cronometro timer qui ci sono qui ci sono le clip aggiungi file aggiungi testo aggiungi clip vuoto come vi ho spiegato all'inizio le sequenze quindi puoi duplicare così il tuo video qui invece puoi lavorare su più timeline quindi in questo caso se hai 10 video da editare puoi programmarti e fare più 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 sequenze quindi lavori sulla sequenza 1 lavori sulla sequenza 2 userai di più il tuo pc però lavorerai più velocemente e qua ci aggiungi un altro video un altro video e un altro video per salvare così il progetto e riprendere il progetto il giorno dopo fai sul menu e fai direttamente se ricordo home sulla home file video certifica file salva progetto con nome lo chiami progetto numero 1 fai desktop fai salva quindi in questo caso hai salvato così il tuo progetto mi raccomando quando stai editando salva così il tuo progetto se no in caso di blackout si perde così il progetto si perde così il tuo lavoro puoi sempre riprenderlo attraverso il progetto quindi io chiudo qua come puoi vedere mi è scattato così il blackout mi basta direttamente cliccarci sopra e riprendo così il mio progetto ed eccolo qua e ovviamente per esportare così il video esporta video fa il video e tu stai editando un video con il telefono quindi hai fatto il tuo video però verticale l'hai registrato con il telefono lo metti qua e sulla modalità widescreen metti standi metti standi quella cosa verticale te lo schiaccia te lo ridimensiona quindi esce fuori un bruttissimo video quindi quello che devi fare è mettere cassetta delle led frame rate qui metti così la frequenza dei fotogrammi al secondo metto costante 60 fps qui dai il tuo nome calva nella cartella e basta fai direttamente crea aspetta un paio di minuti per l'esportazione quindi farà l'elaborazione poi farà l'esportazione userà il tuo processore vabbè userà sempre useranno sempre i processori questi programmi editing li usano sempre ma molto molto quindi in questo caso ti consiglio di non usare più niente mentre sta facendo l'elaborazione e sta esportando così il video ovviamente queste erano le basi per editare un video o un filmato se hai altri problemi puoi sempre commentare sotto al video se ti serve qualcos'altro basta che mi scrivi farò un'altra guida in futuro in alto a destra nelle schede c'è una guida delle guide complete come usare video pad editor video quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao